Va accompagnato il ragazzo mio che è tanto felice di stare qua, vero? Ho detto vero? Sì Quindi mi potete consigliare qualcosa? Oh, che carino che l'ha accompagnata, hai visto? Ha fatto solo metà del dovere suo Mamma mia Questa che te ne pare, già ho pensato Bene, perfetto Che ne pensi? Da paura Sì, Eva Questa 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 Corazzo però, guarda come sta È un po' troppo Se sta a fare una cosa normale, questo deve fare l'uomo, eh Vabbè Che dici, amore? Questo rosso o questo rosa? Quello rosso Ok, rosa Vi serve la busta, magari? No Amore, questa è la cassa L'aspetto in macchina Mamma mia, poraggio, che gli è capitata? Io l'adoro L'amo follemente, è troppo fortunato lui Se la merita, anzi